Questo è il castello, no? No, è la chiesa, 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 vado su piano, si si vado su piano perché poi nello schermo se no corre, un po' più su, un po' più su, ok, ora gira da sinistra, ecco qua, stiamo inquadrando ora il ragione principale, l'entrata, ok, tiriamo un po' più su adesso, molto più su, ecco, quella è la zona principale, tiriamo un po' più su così vediamo la vetta delle unghie, ancora, 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 aspetta, è altissima, ancora Mario, si si si, tranquilla, eccoli, siamo arrivati alla, siamo praticamente in fondo al pozzo, esatto, c'è quasi il telefono orizzontale, Ok, adesso scendo piano, adesso in personale stiamo inquadrando tutti i bassi rilievi dell'entrata principale, poi inquadra fuori i cavalli, si, cavalli, non ci sono, ah si, sono qua sulla destra, qua sulla destra, piano piano, si, ecco, ecco lì, le carrozze e i cavalli che trasportano in giro per tutta la città, e i trasportano i turisti, ok, ora lo fermo, a dopo.